Siamo già quasi alla vigilia di Natale, questa domenica è la domenica quarta e poi verrà subito questa celebrazione del Natale, io penso che dobbiamo cercare di recuperare il senso religioso di Natale perché si è disperso in tante cose, alcune sono le nostre tradizioni e bene mantenerle alcune tradizioni, altre sono ormai puro consumismo, vacanza, che non è più il senso della festa, la festa è sempre la memoria di un evento, di qualcosa di importante e qual è questo evento per noi cristiani? L'evento è il progetto di Dio che si realizza nella storia, non è un Dio lontano, è un Dio che si fa carne, un Dio che viene e diventa uno di noi, questo mistero di Dio, perché perché altro è pensare a un Dio lontano, un Dio l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra come abbiamo imparato nel passato e anche questo, ma questa è la concezione un po' filosofica di Dio, il Dio in cui noi crediamo è un Dio che ama totalmente, ama talmente l'umanità e la creazione, questa creazione che ha rischiato perché ci ha lasciati liberi Dio di perdere se stessa, insomma perché si allontana da questo progetto di Dio, allora è l'amore di Dio che si fa carne, cioè si fa uno di noi, cioè non è un Dio quindi che non capisce i problemi della nostra umanità, e invece c'è chi guarda questo e vuole un Dio che sia un Dio a nostra disposizione. La prima lettura che ascoltiamo questa domenica del re Acas, 734 a.C., il quale si trova in difficoltà con i suoi nemici, con i popoli vicini che vorrebbero, allora lui pensa a un miracolo, vuole un miracolo, tant'è che era questa concezione un po' carnale che aveva anche ucciso il figlio per ringraziarsi Dio, ma Dio non aveva bisogno di uccisione, assolutamente. Quello che Dio vuole invece è che ci lasciamo guidare dal suo spirito, questo è quello che è Dio. Ora, questo mistero di Dio che ci viene, questa intenzionalità di Dio che ci si manifesta in Gesù di Nazareth, la nostra fede è fondata in Gesù, cioè noi guardiamo questa umanità di Gesù e attraverso questa umanità, noi vediamo il volto di Dio e lo vediamo attraverso la nostra umanità. E questo è il senso che noi vogliamo dare, insomma, cioè Giuseppe, il Vangelo di oggi, di questa domenica, Giuseppe si trova in difficoltà. Umanamente lui doveva osservare la legge, rimandare la moglie perché non poteva accettare una nascita così, ecco, senza che ci fosse la collaborazione umana, insomma, e quindi decide. E poi invece avviene qualcosa di straordinario. Perché questo racconto? Il racconto ci vuole parlare dell'imprevedibilità del progetto di Dio. Cioè noi costruiamo i nostri progetti, noi facciamo le nostre ricostruzioni, le nostre speranze, poi improvvisamente irrompe Dio, ecco, irrompe e fa cambiare tutti i progetti. Il progetto di Giuseppe cambia, il progetto di Maria cambia, l'imprevedibilità. La virginità è proprio questa, cioè questa disponibilità ad accogliere l'imprevedibilità di Dio. Perché non è tutto frutto nostro, ma c'è anche questa presenza di Dio che interviene nella nostra vita personale. Certo, non interviene attraverso questi miracoli, insomma, ma interviene attraverso questi cambiamenti profondi delle situazioni di vita che aprono orizzonti nuovi. Certamente questa presenza di Dio in mezzo a noi ci sconcerta, perché noi vorremmo un Dio prevedibile, insomma, un Dio che dà continuità alle nostre cose. Invece questo Dio, ecco, cambia, ecco, cioè, ci cambia. Dice il Vangelo, Maria, ecco, quando vedono, cioè, una donna si alza in mezzo alla folla e dice, beato il seno che ti ha allattato. E Gesù dice, beati coloro che vivono la parola di Dio, cioè, la mettono in pratica, accolgono questa parola di Dio. E tutto qua il nostro impegno come cristiani non è tanto la ripetizione di tradizione, di cose, eccetera. Ma è questa nascita dentro il nostro cuore di questa parola di Dio. Gesù Cristo è la parola di Dio. È una persona, un uomo, ecco, ma questo uomo noi lo leggiamo e lo accertiamo come parola di Dio. Per cui viene a nascere dentro di noi. Ma se questa parola non viene a nascere dentro di noi, ecco, il nostro cristianessimo che cosa diventa? Una serie di pratiche religiose, una serie di devozioni o di pratiche perché si fa così. Ma invece quello che è fondamentale è che questa parola entra dentro di noi. Maria si trova di fronte a questa parola che ne viene annunziata, tu avrai un figlio. Anche la sua virginità è questa disponibilità ad ascoltare, ad accogliere. L'imprevedibilità di Dio. Anche Maria aveva i suoi progetti familiari con Giuseppe e questo vuole dire il racconto. Questi hanno racconti midrash che vogliono esprimere il senso che dobbiamo cogliere di questi raccogli, non tanto l'aspetto miracoloso, straordinario, perché altrimenti perdiamo l'essenziale. L'essenziale è che lei si fa portatrice di questo progetto di Dio, ci accoglie questo progetto di Dio. Inizialmente chiede, ecco, come potrà avvenire tutto questo? E poi dice, eccomi, si compia. Eccomi, sono pronta, si compia. E anche se queste parole non le capisce totalmente, profondamente, però lei è convinta che deve essere disponibile, è pronta a mettersi al servizio di questo grande progetto di un Dio che si fa uno di noi. E allora io credo che il nostro cristianesimo deve essere proprio questo, vivere dentro questa parola del Signore. Cioè noi siamo senza parola del Signore, siamo pieni di noi stessi, dei nostri dei, dei nostri progetti e abbiamo difficoltà ad accogliere questa parola del Signore nella nostra vita e a farla. Non soltanto accoglierla, ma per farla. Cioè dobbiamo vedere e confrontare se è quello che dice Gesù Cristo e quello che facciamo noi, possono andare insieme, insomma. E se è quello che facciamo noi, rispecchia lo Spirito di Gesù Cristo. Altrimenti, ecco, noi celebriremo un Natale, ci faremo gli auguri, ma di che cosa? Di buona salute? Che le cose economicamente ci vadano un po' meglio di quanto non sono andate l'anno precedente. Ma è solo questo. Ma questo è per tutti, per chiunque. Ma per un credente, per un cristiano c'è qualcosa di molto di più. È l'accoglienza di questa parola di Dio che si fa carne in noi. Perché se questa parola di Dio non si fa carne nella nostra carne rimane, ecco, retorica, rimangono parole belle, gli auguri, ma non c'è niente di sostanza. E allora, ecco, noi non siamo proiettati verso un futuro che costruiamo noi, perché... ma siamo proiettati verso un futuro che è una... ad ventus, cioè, perché noi aspettiamo che ci sia qualcuno che viene incontro a noi. Questa è la grande novità. Cioè, la nostra vita non va incontro a un futuro, non lo sappiamo come e c'è, ma andiamo incontro a qualcuno che viene. Cioè, è qui il senso cristiano. Noi il futuro non lo vediamo né come un perdersi nel niente, nel nulla, di un processo che si sviluppa, di cui noi siamo una specie di materiale di risulta, per cui la nostra vita non conterà più nulla, perché sarà macinata da questo processo, senza pensiero, senza niente, senza razionalità, che è assurdo. Ecco, si perdiamo. Oppure ci perdiamo in questo mare, in questo oceano, come una coscia in un oceano, ma non siamo più noi. Siamo il tutto, siamo secondo alcune... noi invece pensiamo a quello che ci dice Gesù Cristo, che noi andiamo incontro a qualcuno che viene verso di noi. È Dio che viene, Dio con noi, insomma, Lui che viene. E storicamente Gesù è venuto, ma Gesù continua a venire nella nostra vita, perché il Vangelo è contenamente parola che ci viene data. Accogliere Gesù Cristo nella nostra vita significa accogliere quello che Lui ha fatto, soprattutto. Fate questo in memoria di me. Fate quello che io ho fatto, ci ho donato la mia vita. Questo è il Vangelo. Donare la propria vita. Un atto di amore totale in cui ci spogliamo di noi stessi, dove Dio non è allora l'onnipotente semplicemente, ma Dio è colui che si fa piccolo, che si fa niente, si è fatto servo. È credere in tutto questo, è credere che la nostra vita diventa grande. più ci facciamo servi, cioè ci mettiamo ad amare e diamo la nostra vita, e più si realizza questo incontro con la parola del Signore, cioè con Gesù Cristo, che è la parola del Signore. Ed è questo l'augurio che ci facciamo per queste feste di Natale. Ecco, io vi auguro bellissime feste, bellissime dico, ma soprattutto che siano un momento grande di coerenza, cioè Dio viene, Dio con noi, ma che ce ne facciamo di questo Dio con noi, se non convertiamo la nostra vita, non siamo disponibili ad accoglierla. Questa parola Gesù Cristo è a farla, questa parola. Vi auguro buon Natale.